Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca, nascondeva cocaina sotto il cofano della sua auto, una panda dopo la perquisizione da parte dei carabinieri è stato arrestato, sentiamo. Aveva nascosto ben 18 ovuli di cocaina nel motore dell'auto, ma è stato intercettato ed arrestato dai carabinieri in manette un cittadino straniero senza fissa dimora. È successo a Cortona, l'uomo si trovava a bordo di una Fiat Panda intestata ad una ditta di autonoreggio quando è stato fermato e controllato dai militari, insospettiti dalla sua anomala presenza in quel territorio e dal suo comportamento nervoso. Così è scattata la perquisizione personale e veicolare, dal vano motore dell'auto sono saltati fuori 18 grammi di cocaina già suddivisa in involucri di cellophane trasparente occultati in un sacchetto. I carabinieri hanno trovato anche 440 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Drogue e denaro sono stati sottoposti al sequestro penale. L'uomo, dopo la convalida dell'arresto, è stato liberato in attesa del processo come disposto dall'autorità giudiziaria. E adesso parliamo invece della giornata della memoria che ricorre come sappiamo domani il 27 di gennaio, oggi in Valdarno, a Cavriglia, in particolare una marcia per la pace alla quale hanno partecipato anche gli studenti per ricordare appunto uno degli ecidi più efferati che hanno colpito il territorio della provincia di Arezzo. Partendo sempre dallo spunto della giornata della memoria, quindi nel ricordare la Shoah, l'Olocausto, cerchiamo di emozionare, di sensibilizzare i ragazzi anche con ciò che è accaduto a Cavriglia. Le atrocità che sono state commesse in questo territorio tra il 4 e l'11 luglio 1944. Quindi raccontiamo le drammatiche vicende familiari, la quotidianità di queste persone, semplici contadini che furono barbaramente trucidati nei massacri nazifascisti durante questa ritirata aggressiva della unità dell'Hermann-Gerig. Il massacro del comune di Cavriglia è il quarto in termini numerici su scala italiana dopo Marzabotto, Sant'Anna e le fosse Ardiatine. Questo la dice lunga per quello che avvenne in questi paesi che vennero interamente devastati. Meleto Valdarno, delle frazioni del comune di Cavriglia colpite, ebbe 93 vittime, pagò con il prezzo più alto e più caro. Le case che mi sono intorno, le case di Meleto, vennero quasi interamente distrutte e bruciate dai soldati e tutti e tutto fu devastato. Immaginate quanto sia stato difficile ricostruire questa comunità, soprattutto per le donne, per le vedove che vissero momenti, anzi direi decenni drammatici. Oggi se non facciamo memoria e se non costruiamo dei valori specifici sulla storia e sulla memoria, niente è servito. Un'altra marcia per la pace si svolgerà invece domani ad Arezzo, organizzata dalla Rete Arettina Pace e Disarmo, in partenza alle 18.30 da Piazza Sai Jacopo, che ha trovato l'adesione di oltre 20 organizzazioni della società civile Arettina e dei rappresentanti delle istituzioni. Abbiamo speranza, crediamo nella pace, questo è il titolo della manifestazione che va appunto a collocarsi simbolicamente nel giorno della memoria. Domani ovviamente ci saranno tante iniziative, a cominciare da quelle istituzionali, presso la prefettura di Arezzo e poi al cimitero degli ebrei e per quello che riguarda la nostra emittente abbiamo raccolto in questa settimana due importanti testimonianze, ormai i testimoni, insomma i superstiti delle stragi nazifasciste sono davvero pochi e allora noi siamo andati a trovare una testimonianza nel comune di Civitella in Valdichiana e nel comune di Cavriglia, due comuni appunto colpiti dalle stragi nel 1944. Vi proporremo questa testimonianza proprio domani, non solo nel nostro telegiornale ma poi anche alle 21 con un lunghissimo speciale dedicato appunto alla giornata della memoria. Adesso parliamo invece, torniamo anzi a parlare di quanto accaduto a Tregozzano nella strada avvicinale. Lo ricorderete, si era aperta una buca che poi aveva rivelato una grande voragine appunto sotto il terreno. L'intervento di Nuove Acque ha in questo caso ritrovato la conduttura che poi si era effettivamente rotta ma che si trova addirittura ad una profondità di 4 metri. Il cantiere dunque non durerà pochi giorni, i disagi per i cittadini in tutto sono 6, le famiglie coinvolte non sono pochi e proprio appunto le istituzioni insieme a Nuove Acque si occuperanno anche di una viabilità alternativa proprio per cercare insomma di ridurre al minimo i disagi patiti dalla popolazione di questa frazione del Comune di Arezzo alle prese con questo importante cantiere. Parliamo adesso invece della delibera sull'accesso ai servizi per l'infanzia al Comune di Arezzo. Delibera che riguarda i suoi criteri che sono in fase di cambiamento, aveva fatto molto discutere dopo l'introduzione del cosiddetto criterio dei nonni. Questo nuovo regolamento doveva essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale che c'è stato proprio ieri ad Arezzo ma alla fine è mancato il numero legale e non solo questa pratica è stata rimandata. Alla fine il nuovo regolamento per l'accesso ai servizi per l'infanzia del Comune di Arezzo che aveva tanto fatto discutere per l'inserimento del criterio dei nonni non è stato discusso in Consiglio Comunale. Questo, come altre pratiche, sono state rimandate e non sottoposte all'esame dell'assise a retina perché è mancato il numero legale. Nel tardo pomeriggio di ieri, al momento del voto su una variante al piano strutturale, PD e Scelgo Arezzo hanno deciso di non partecipare al voto e sono usciti dall'aula. In quel momento erano cinque i consiglieri di maggioranza assenti e quindi è mancato il numero legale. Alcune assenze dai banchi della maggioranza sono ormai consuete da qualche settimana. Del resto c'è già stata una lettera di richiamo inviata tempo fa dal sindaco Alessandro Ghinelli ai gruppi di maggioranza per richiamarli al loro ruolo. Non si conoscono al momento i motivi di queste assenze. Sta di fatto che quanto accaduto nell'ultimo Consiglio Comunale viene fortemente stigmatizzato da Scelgo Arezzo. Il gruppo consigliare di Scelgo Arezzo esprime forti perplessità per quanto sta accadendo in Consiglio Comunale. Si interrompe la votazione delle pratiche per mancanza del numero legale. Alcuni consiglieri sono assenti ormai da molto tempo. Interessa capire per questa città se la giunta Ghinelli è ancora in grado di andare avanti e di garantire governabilità al nostro comune. Tutto pronto invece per l'arrivederci. Parliamo di opere pubbliche al vecchio sottopasso tra via Baldaccio D'Anghiari e via Le Cittadini a Pescaiola. Da Arezzo ovviamente dal prossimo lunedì 29 gennaio chi transita in via Baldaccio D'Anghiari per andare verso il Pionta e la zona universitaria di via Alessandro Dalborro troverà importanti novità nella percorrenza e comincerà a prendere appunto confidenza con il tunnel appena realizzato. Le fasi lavorative dei prossimi mesi si articoleranno in tre momenti dopodiché aprirà definitivamente la cosiddetta doppia canna del Baldaccio. Siamo all'economia, sarà ancora Giordano Frangipani alla guida dell'Associazione Calzature e Pelletteria di Confartigianato Imprese Arezzo che però lancia un'importante allarme. Il nostro è un sistema virtuoso ma in questo momento sta vivendo afferma un preoccupante passaggio di flessione. Negli ultimi mesi gli ordinativi da parte dei principali brand sono al palo e molte imprese stanno ricorrendo alla cassa integrazione per far fronte alla crisi. Si tratta, spiega Frangipani, di un momento davvero delicato del quale non riusciamo bene a capire le motivazioni ma che sta facendo scattare un campanello di allarme che non possiamo sottovalutare. E siamo alla pagina invece della cultura tutti pronti insomma ad essere all'altezza di Piero letteralmente sarà possibile appunto ammirare il capolavoro di Piero della Francesca la leggenda della vera croce da un punto di vista davvero inedito e le visite però sono già sold out. Essere all'altezza di Piero come all'altezza di ogni grande artista è un'emozione unica. Le prenotazioni sono arrivate da ogni parte d'Italia i biglietti sono infatti già sold out sino al prossimo 12 marzo giorno in cui questo ponteggio sarà smontato tutti vogliono vedere da vicino uno dei capolavori di Piero della Francesca la leggenda della vera croce. Bellissimo la vicinanza dà la percezione della raffinatezza del disegno della pittura, della stesura del colore. Il celebre ciclo di dipinti realizzato dal maestro rinascimentale tra il 1452 e il 1466 è sottoposto ad un intervento di manutenzione e restauro conservativo. Prevede la rimozione del particellato solido che come sapete insomma può essere veicolo di prodotti nocivi per le pitture murali e una volta verificato la presenza o meno di fenomeni di degrado interveniamo nella maniera più congrua. All'interno della Cappella Bacci nella Basilica di San Francesco ad Arezzo è stato così allestito un esclusivo ponteggio accessibile anche a piccoli gruppi di visitatori. Abbiamo trasformato quella che doveva essere una chiusura del museo in un'opportunità particolare. Gli interventi di manutenzione in programma saranno utili per monitorare lo stato di conservazione delle pitture murali e prevenire l'eventuale degrado dell'opera nei prossimi anni ma non solo. Permette anche la realizzazione del restauro della croce la grande croce duecentesca del maestro di San Francesco che ha bisogno di essere restaurata e anche la verifica e sostituzione e comunque implementazione della vetrata che chiude la grande finestra verso dell'abside che è sempre stata sin dal tempo del restauro degli anni 90 uno dei punti diciamo più critici. Le visite speciali e il costo di 35 euro a persona avranno la durata di circa un'ora. Con lo stesso biglietto si potrà accedere poi anche agli altri musei statali e a retini. È stato inaugurato oggi il tratto sangiovanese della ciclopista del Chianti che unisce San Giovanni Valdarno a Cavriglia fino al confine con il comune di Gaiole in Chianti. Si tratta della terza realizzazione in sei mesi di progetti riguardanti la rete di piste ciclabili che appunto a San Giovanni collega i confini comunali con le aree sportive, scolastiche, il centro storico, la stazione e i principali luoghi di attrazione e interesse. Siamo adesso invece a parlare del bellissimo spettacolo che c'è stato al Teatro Petrarca di Arezzo un balletto la cui genesi è stata davvero in una circostanza particolare. Quando ha scritto la musica era in un campo di concentramento e un generale nazista che amava la musica sapeva che c'erano dei musicisti e quindi chiese di scrivere un pezzo di musica da questo compositore. Nata in un campo di prigionia la musica del quartetto per la fine del mondo di Messiana racchiude un universo di simboli che la rende un capolavoro. Note tradotte anche in danza dal coreografo Mario Bermudez-Gil ed interpretate dal nuovo balletto di Toscana. Ci vuole sì un'arte anche del viso per esprimere il dolore, un dolore così grande però oggigiorno bisogna saperlo fare, ripeto, con astrattezza perché ogni epoca ha il suo modo di esprimersi e tutto deve partire dall'animo. La stagione del Teatro Petrarca ha così proposto un appuntamento con la danza onorando la giornata della memoria. E dopo il successo della scorsa edizione torna anche quest'anno la stagione concertistica retina promossa dalla Fondazione Guido d'Arezzo, il comune di Arezzo per la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon porterà nella nostra città davvero degli appuntamenti imperdibili. Uno di questi è proprio domani, 27 gennaio, alle 19 presso l'auditorium Guido d'Arezzo Caorum Hall. Torna infatti nella nostra città l'orchestra del maggio musicale fiorentino diretta dal maestro Ion Marin. E allora al via invece in questo fine settimana, anzi domenica, per la precisione, tutti i carnevali, dai più importanti a quelli dedicati ai più piccoli nel nostro territorio. Tempo di carnevali nell'Aretino, al via domenica 28 gennaio, in quasi tutti gli angoli della città e della provincia. Quello più antico d'Italia, Foiano della Chiana, è giunto alla 485esima edizione. Partiranno alle 15 le sfilate dei giganti di cartapesta. Il cantiere azzurri si presenta con il carro autoritratto con la raffigurazione del ritratto di Dorian Gray. Bombolo porta in scena Metamorphosis oltre la forma, con l'espressione attraverso l'arte di soggetti immateriali. I nottamboli portano invece e non si arresta un'ora. L'allegoria del presente è vissuto con i fantasmi del passato e le paure del futuro. Infine, i rustici con terapia d'urto, amleto archetipo dell'uomo moderno in terapia, è l'allegoria degli intellettuali del tempo. Nel borgo di Castiglionfibocchi, Valdarno al via la 28esima edizione del Carnevale storico dei figli di Bocco, che renderà omaggio al maestro Giacomo Puccini nel Centenario della Morte. Due le uscite, domenica 28 e il 4 febbraio. Torna anche quest'anno il concorso fotografico dedicato a Piero Franchini, dal titolo Carnevale Incantato, maschere e melodie nel castello di Rebocco. Ad Arezzo al via i due carnevali storici, Orciolaia e Rigutino, quest'ultimo peraltro ha già iniziato il 21 di gennaio. In città il Carnevale dell'Orciolaia sarà come sempre ospitato dal Parco Ducci. Ogni uscita un tema e tanti ospiti. Domenica 28 il trio Beppe, Marco e Robi e la Gina. Per i più piccoli invece i personaggi di Frozen e la caccia al tesoro a tema Harry Potter. A Rigutino, oltre ai carri e alle ciacce fritte, ci saranno Minni e Topolino pronti ad uno scatto ricordo. E Cortona sarà invece capitale del veglione di Carnevale. Cauta e Bubble scelgono l'Arlecchino di San Lorenzo per il tradizionale appuntamento del martedì grasso 13 febbraio. Saranno coinvolti ben tre istituti scolastici superiori e l'iniziativa ha anche il patrocinio dell'amministrazione comunale. La serata sarà appunto all'insegna di Bubble, il nuovo format ideato dai giovani cortonesi che hanno da poco fatto il loro ingresso in Cauta. Leonardo Patalocco e Andrea Valentini e contemplerà animazioni speciali proprio con ballerine e ballerini, gadget, drink dedicati e tante sorprese. Ed infine parliamo di sport. Le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile sono pronte a tornare a giocare al comunale. Questa volta arriva il Bologna. Si può dire che delle volte le partite si perdono anche per episodi occasionali? Sì, come hai detto te, episodi, piccoli dettagli. Il calcio è questo. No, però sì, a Cesena noi... Io posso solo fare un compariso dell'estate perché era il secondo amichevole che abbiamo giocato, penso nella metà di agosto. e la squadra in quel momento loro hanno giocato con la squadra titolare, quella che è anche oggi. Era molto difficile la partita in agosto. L'altro giorno la partita per me era molto equilibrata. Anche abbiamo analizzato la partita con occasioni. Siamo stati messi molto bene. Però, come hai detto anche te, due episodi, il calcio qualche volta è così. Bisogna guardare solo avanti ora e lavorare per Benino per preparare la settimana contro Bologna. Che tipo di squadra è il Bologna? Bologna sicuramente è una squadra che ha vinto campionato l'anno scorso con il stesso mister dalla Serie C. La base del modulo e della filosofia hanno anche le ragazze che hanno vinto allo scudetto per loro l'anno scorso. Quindi conoscono anche la filosofia del mister. Hanno fatto un buon mercato nell'estate, anche nell'inverno. Hanno preso giocatrici importanti e soprattutto le tre che giocano avanti creano problemi per i diversi avversari. Quindi bisogna essere attenti, però giochiamo nel comunale. Abbiamo fatto una grandissima partita una settimana fa nel comunale e quindi bisogna continuare così. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.